Buon pomeriggio a tutti, allora tu eri dispiaciuto perché la sala è piena, invece sono contento perché cinque anni fa in un'altra occasione si parlava di robot advisor e c'erano cinque persone, invece quest'anno devo dire che c'è overbooking nonostante la Consob recentemente Sono il relato può darsi, allora mi farò pagare la prossima volta nonostante la Consob come ha detto prima Fornezza in una recente analisi ha detto che circa il 25% delle persone conosce il tema di robot advisor, però qui l'abbiamo affrontato anche nella ricerca, ci troviamo di fronte a un Uber nel mondo finanziario, il business anticipa i modelli di riferimento e la normativa cioè il business corre più veloce di quanto stanno facendo gli operatori sul mercato e questo è significativo, per cui l'aspettativa è elevata e da questo punto di vista abbiamo cercato abbiamo voluto fare una ricerca con una prestigiosa università che volesse analizzare cinque ambiti l'ambito, ci sono stati quattro curatori di questa ricerca, Marco Folcia, Andrea Loroventi e Roberto Bartocetti abbiamo analizzato il lato della domanda, quindi quali sono le aspettative e i bisogni della clientela abbiamo analizzato il lato dell'offerta, quindi come oggi gli operatori si muovono sul mercato quali sono le soluzioni, abbiamo analizzato il mercato statunitense, il mercato europeo e il mercato italiano poi ci siamo soffermati sulla normativa, qui la normativa è decisamente indietro rispetto alle esigenze nel senso che c'è stato un discussion paper che ha voluto affrontare le tematiche dei robot advisor ma nulla di più, da questo punto di vista siamo in attesa che la normativa entri nel merito e dia delle regole un po' più chiare e infine abbiamo affrontato i modelli di business quindi l'interazione anche dei robot advisor con il mondo tradizionale bancario ora la ricerca è in fase di pubblicazione, quindi c'è, lo faccio, sono digitale, sono tradizionale ma anche digitale la ricerca è in fase di completamento e di pubblicazione, noi abbiamo creato una pagina ad hoc la potrete consultare nei prossimi giorni e anche scaricare per poterla reggere dettagliatamente sono tante pagine, non abbiamo ritenuto in questa occasione portare tutti i dettagli ma alcuni spunti di riflessione quindi io lascio la parola a Marco che vi racconta un po' nel merito di quello che è emerso dalla ricerca grazie Mauro, buon pomeriggio a tutti anche da parte mia provo a introdurvi e poi con Mauro ci alterniamo per rappresentare alcuni aspetti che riteniamo salienti che emergono dalla nostra ricerca siamo partiti per analizzare quelli che sono i comportamenti dei consumatori un campione rappresentativo della popolazione italiana naturalmente della popolazione che potesse essere supportata da un advisor di consulenza per la gestione del risparmio di conseguenza abbiamo preso la popolazione con reddito tra i 18 e i 65 anni e da quello che emerge, questo è uno dei grafici che poi troverete all'interno della ricerca sono quelli che ci hanno risposto che sono interessati ad avere un supporto da parte di una piattaforma, uno strumento di consulenza robotizzata, automatizzata abbiamo spiegato al campione di riferimento che cosa intendevamo noi per RoboAdvisor abbiamo sottoposto quindi un questionario abbastanza articolato e quello che emerge come potete vedere da questa tavola è che come forse può essere anche scontato le generazioni più giovani, i millennials, la generazione Y sono più propense ad avere interesse a ottenere supporto tramite piattaforme robotizzate e questo un po' perché sono già nativi digitali come si utilizza a dire la cosa che però è interessante è che abbiamo trovato una correlazione molto forte su tutta la fascia della popolazione con le disponibilità di patrimonio quindi non è necessariamente vero che soltanto le generazioni più giovani come potrebbe sembrare scontato sono interessate ad avere RoboAdvisor ma al contrario sembrerebbe esserci una certa correlazione anche per chi ha una certa disponibilità di patrimonio a ottenere supporto tramite strumenti che siano passatemi il termine un po' più infallibili di quanto non avviene normalmente tramite la gestione con supporto dell'Advisor tradizionale qualcuno tra i relatori precedenti mi pare che avesse proprio sottolineato questo aspetto c'è un altro elemento che riteniamo interessante se voi guardate la media è intorno al 40% dei rispondenti c'è una punta nella distribuzione perché ci potremmo immaginare una curva in discesa in realtà le fasce tra i 46-55 e i 56-65 che hanno maggiori disponibilità di patrimonio hanno dimostrato una certa propensione ad ottenere supporto tramite RoboAdvisor che non ci aspettavamo siamo andati un po' di più ad indagare e quello che emerge e che trovate poi in un'altra tavola del report è che sostanzialmente la popolazione che abbiamo indagato può essere distinta in tre categorie una categoria che abbiamo chiamato di clientela smart che sono quelli che cominciano ad essere più soddisfatti del supporto che ricevono tramite l'Advisor tradizionale quindi l'Advisor che può essere il promotore finanziario l'Advisor di banca o il gestore questo perché come dicevamo collegato anche prima alla disponibilità di patrimonio non sempre l'offerta che viene proposta è allineata alle esigenze specifiche della clientela esigenze che si stanno modificando che sono sempre più sofisticate un po' anche legate alla necessità di tutela dei rischi e da quello che poi si sente relativamente sul mercato finanziario quindi un po' di necessità di protezione andando a cercare forme di investimento alternative o comunque più tutelanti nei confronti del patrimonio di chi investe ci sono i cosiddetti multitask che sono un 34% di quelli che abbiamo analizzato che sono i clienti che si aspettano di ricevere un supporto attraverso piattaforme che tengano in considerazione molte più variabili rispetto a quello che normalmente può fare il gestore tradizionale ma che non disdegnano di avere un contatto anche con un gestore per poi raffinare magari la discussione o comunque chiudere la discussione sul loro patrimonio e da ultimo una parte che è sembrata a noi sicuramente più bassa rispetto alle aspettative ciò vuol dire che c'è veramente un segnale di cambiamento se guardiamo a quelli che sono gli indicatori anche di possesso degli strumenti tecnologici oggi siamo tutti digitalizzati abbiamo tutti uno strumento con cui probabilmente facciamo banca con cui ci relazioniamo lo smartphone assolutamente così come anche il tablet non so se lo sapete il tablet è lo strumento più penetrato nella popolazione dai 50 anni in su questo forse fa un po' il paio anche col fatto che solo una quota più ridotta rispetto a quello che ci aspettavamo di clientela preferisce mantenere un rapporto solo esclusivamente attraverso il canale tradizionale andiamo avanti come abbiamo detto abbiamo analizzato anche l'offerta di soluzioni robot advisor io mi occupo di asset management per cui questo capitolo l'ho dedicato io devo dire che l'offerta è ampia chi sono partiti per primi sono partiti per primi gli operatori provenienti dal mondo anglosassone americano ma posso dire che una soluzione vincente ancora non esiste nel senso che prima è stata fatta vedere una tavola in cui Vanguard ha asset management importanti però bisogna capire se questi operatori hanno catturato nuova clientela oppure si è trattato sicuramente di uno switch di clientela esistente che non era profittevole servire con determinati canali e l'hanno spostata sul modello robot advisor per cui il tema vero è il tema della marginalità cioè i primi esperimenti non hanno portato alla marginalità sperata nel senso che i soldi veri ancora non si fanno con robot advisor tant'è che anche in Italia noi abbiamo chiamato la ricerca robot advisor moves forward in Italy nel senso che anche in Italia esistono diversi soggetti che sono entrati in mercato alcuni sono stati presentati precedentemente però ad esempio i grandi operatori cosa fanno? le grandi banche cosa fanno? avranno sicuramente dei progetti però ad oggi non esiste un robot advisor lanciato da un grande operatore esistono quindi modelli che hanno più o meno interazione digitale col cliente più o meno modelli assistiti però come abbiamo visto prima chi ha lanciato il modello di robot advisor ha visto che la propria clientela ha deciso per l'85% di essere assistita per cui un robot advisor puro che ha successo in Italia ancora non esiste e questo posso dire anche all'estero nel senso che ti faccio un assist abbiamo invitato un SGR che non dico chi è internazionale particolarmente attenta a questi fenomeni per partecipare a questo dibattito e mi ha detto no non vediamo perché non crediamo di poter aggiungere valore allora io ho detto sono contento perché allora vuol dire che i relatori che abbiamo scelto hanno un tale valore che anche un SGR internazionale non riesce ad accrescere valore e quindi non accetta di venire qui a parlare della digitalizzazione dei servizi di investimento grazie Massimo però è pur vero che è un servizio a bassi costi per cui essendo tutti attenti alla tematica dei costi dovendo ridurre i costi il mercato finanziario questa è una tendenza che sicuramente avrà anche uno sviluppo nel futuro però diciamo che la soluzione vincente secondo me deve essere ancora trovata no ci sono ancora io diciamo questo l'abbiamo già anticipato la ricerca ha un focus anche sul tema della normativa la normativa da questo punto di vista non ci dà molti spunti nel senso che non c'è nulla esiste un discussion paper esistono diversi modelli di riferimento di robot advisor che vanno da un robot advisor puro a un robot advisor integrato però ci troviamo di fronte a un fenomeno come ben detto come ho chiamato prima di uberizzazione nel senso che il business ha anticipato quello che sono i modelli di riferimento da ultimo andiamo veloci perché abbiamo provato a fare anche un esercizio naturalmente qui è di alto livello e abbiamo provato a spiegare un po' di più all'interno del nostro paper nella sostanza abbiamo provato a ragionare mettendo su due assi è una rappresentazione ce ne potrebbero essere anche altre però guardando a quella che è la differenzazione di prodotto che oggi offrono le banche ai loro clienti quando offrono servizi di consulenza e di advisory finanziaria e andando a guardare al canale con cui oggi si relazionano con i clienti abbiamo posizionato su questa matrice quelle che sono le banche tradizionali gli operatori puramente digitali e alcune banche ibride che stanno in mezzo che quindi hanno già entrambi i servizi guardando un po' a quello che è il mercato nazionale ma anche a quella che è la prospettiva che poi si può avere da qua ai prossimi anni è quello che sta succedendo nei mercati internazionali dal nostro punto di vista quello che è l'obiettivo a tendere in funzione anche di una marginalità che oggi non è ancora stata trovata e i modelli di servizio con cui oggi si muovono le banche tradizionali che li posizionano in alto a sinistra della matrice e quindi sicuramente con una gamma di servizi abbastanza ampia qualche volta un po' legate alle case prodotti che stanno all'interno dei loro gruppi piuttosto che ad alcuni grandi asset manager difficilmente si sposano rispetto a quello che abbiamo visto prima con una clientela che ha esigenze magari sì più sofisticate ma anche con prodotti oggi sicuramente fruibili sul canale digitale che quindi richiedono una maggior semplicità la sfida dal nostro punto di vista quindi proviamo a chiudere ma lo trovate ben descritto nel report che tra qualche giorno sarà online e disponibile la sfida è quella di arrivare nel quadrato in alto a destra che oggi è sicuramente un question mark in cui si deve provare a essere degli operatori che hanno piattaforme di supporto per tutta la clientela e che quindi in maniera trasversale taglia la segmentazione che oggi le banche fanno dei loro clienti e al contempo riesco ad offrire una gamma di servizi che vada al di là di quelli che sono oggi i prodotti offerti tramite le piattaforme online che sono prevalentemente basati su ETF o prodotti più semplici al consumo tramite il canale digitale Per concludere invece c'è già una ricerca disponibile sul web è una ricerca appena uscita dal network PwC che si intitola How FinTech is Shaping Asset and Wealth Management questo lo potete scaricare dove emerge quello che hai detto prima tu Massimo che il mondo dell'asset management al momento non è così interessato al mondo dei robot advisor c'è una preoccupazione forte sui margini però soltanto pochissime aziende ad esempio hanno chi si occupano di asset management hanno un'app che si può scaricare sul telefonino con cui poter interagire con l'asset manager con questo ci vediamo l'anno prossimo buona continuazione grazie